Chi segna se è nell'importante che oggi abbiamo concluso questi tre punti perché non era facile giocare contro una squadra che è venuta a giocare qui a viso aperto, che sicuramente, secondo me, farà strada in campionato. Dobbiamo restare con i piedi per terra, lavorare con grande umiltà, come stiamo facendo, perché il campionato è lungo, ha tante insidie, quindi continuare così su questa strada e basta. Negli ultimi tempi stiamo facendo questo, siamo bravi a gestire la partita, non rischiamo niente, poi nel secondo tempo, come avete visto, magari riusciamo a più perché magari nel primo tempo le squadre si chiudono, magari hai pochi spazi, nel secondo tempo siamo usciti abbastanza bene e alla fine è arrivato il gol. Sicuramente vorrei arrivare lontano, però ora mi tocca soltanto restare così, con i piedi per terra, perché quello che mi porta a fare questo traguardo è l'umiltà, l'umiltà che mi ha contraddistinto fino ad ora, quindi sono sicuro che continuando così posso fare bene. Ora giochiamo questa partita con la squadra di Serie A, con il Sassuolo, andiamo lì per fare la partita nostra, poi vediamo dove possiamo arrivare. Quando hanno palla questi giocatori ti puoi aspettare di tutto, infatti così è stato, palla per brillenza che ha visto il movimento di Floro Flores che poi mi sono fatto trovare pronto, lui mi ha visto con un tocco, lo ho buttato da dentro.